La caratteristica di questo apparecchio consiste in una fusoliera tubolare sagomata internamente in modo da accompagnare la scia dell'era, abbracciandone la parte convergente e divergente. Questo rende l'apparecchio più stabile, poiché viene sostenuto dalla colonna d'aria che la traversa e nello stesso tempo dà una migliore utilizzazione della potenza del motore. I timoni sono situati all'uscita della fusoliera, investiti direttamente dalla scia dell'elica. Il motore, che ha la potenza di 120 cavalli ed è a cilindri invertiti con raffreddamento ad aria, è posto al centro nella parte anteriore della fusoliera tubolare e l'elica viene a trovarsi anteriormente alla fusoliera stessa. La ironia di da un'elica è stata un'elica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.